Presentata la seconda edizione della Rassegna Teatri di Confine promossa dal Teatro Garibaldi di Biceglie dedicata quest'anno al Sacro. A svelare il programma degli appuntamenti è stato il direttore del Teatro Carlo Bruni presso la libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro alla presenza del sindaco Vittorio Fata e dei rappresentanti di molte realtà associative protagoniste della Rassegna. Ascoltiamo. Che cos'è Teatri di Confine? La stagione del Garibaldi l'abbiamo intitolata Arcipelago, quindi è divisa in isole anche. Teatri di Confine è un'isola che già l'anno scorso aveva affrontato la questione del rapporto con l'handicap, quest'anno lo dedichiamo al tema del Sacro, quindi è una isola composta da più spettacoli, incontri che già da la premessa perché c'è stato un prologo che è partito il 20 fino ad arrivare al Focus che è dal 2 al 5 di febbraio, ingloba in un unico contenitore più iniziative e anche più soggetti. La cosa bella è che si è formato un gran gruppo di associazioni che lavoreranno insieme per questo appuntamento. Perché questo progetto è tra l'altro tempismo perfetto visto l'insediamento del nuovo Vescovo? Certe volte le coincidenze non sono poi del tutto casuali ed è bello questa segnalazione che mi fai. L'idea del Sacro sta nella nostra attitudine a violare questo limite e non riguarda solamente gli aspetti religiosi, no? Sacra è la vita, sacra è la libertà, sacro è l'altro, no? E adesso è un tempo in cui forse diciamo non teniamo adeguatamente conto di questo limite e spesso lo valichiamo. Per cui un teatro che si occupa anche di questo per me è importante e soprattutto un teatro che mette insieme Caritas, Pax Christi, Presidi del Libro, tantissimi soggetti, zona F, che prendono ciascuno un'iniziativa per affrontare lo stesso tema. Dove e come i cittadini biscelliese non possono scoprire il programma? Allora il programma naturalmente lo trovate anche sulla nostra pagina Facebook e comunque al Garibaldi e comunque speriamo di avere la vostra complicità da oggi stesso nel divulgarlo. Dopodiché dal 2, come al solito, il botteghino del Garibaldi è aperto tutta la settimana dal martedì al venerdì e dal 2 poi basta venire a teatro. Partiamo il 2 sera alle 21, sabato ci sarà un appuntamento anche pomedidiano qui con la scrittrice Leonora Mazzoni e ci tengo a segnalare domenica mattina un appuntamento importante che Rosaleuci dei Presidi del Libro ha organizzato che all'interno della Casa della Divina Providenza ragionerà proprio sul passato e sul futuro di questo posto così importante per la città. Grazie. Grazie.